Questo, oggi come oggi, può giocare dove vuole, in qualsiasi tipo di squadra. Non c'è uno davanti alla difesa che oggi io dico in meglio di lui, davanti alla difesa. Al mondo! Al mondo, io dico oggi, perché Gavi e Pedri sono due mezzeali. Poi Modric e Kroos, ormai sono nella fase calante, 35-37 anni. Io dico, Manchester United può giocare, se lui va al City può giocare, all'Arsenal tranquillamente, al Bayern Monaco, al posto di Goretzka o al posto di Kimi, per me può giocare. Oggi io non trovo un giocatore più forte come mediano o basso di lui. A me impressiona, mi impressiona.